Non c'è nessuno, che meraviglia! Dici ma non hai paura? No, è troppo bello, perché Pescara è bella. Zona rossa, giorno 2, il mini lockdown è in vigore in Abruzzo, ma Pescara non si è di certo desertificata. Non è cambiato niente, perché? Che dove cambia? Cambia perché è meno traffico, però non è che cambia tanto, perché alla fine vedo comunque le persone camminando. La bella giornata di sole infatti ha invogliato molti a uscire di casa, sfrecciano le auto lungo le strade, c'è chi passeggia, chi fa attività fisica, chi dà un'occhiata alle vetrine, chi prende un caffè al volo durante una pausa dal lavoro, chi porta a spasso il cane e chi semplicemente ne approfitta per prendere una boccata d'aria. C'è mia moglie malata e ho bisogno di mezz'ora di smago e approfitto. Noi siamo anziani, abitiamo alla pinetta e ci facciamo la camminatina. E non sono poche le attività che possono ancora tirar su la saracinesca nel tentativo di incassare qualcosina in queste ultime settimane di un disastroso 2020. Ha notato differenze? Un po' sì, però non troppo, comunque la gente ci sta in giro, si lavora un po', almeno un po' qualcosa si incassa. Eh, rispetto alla zona arancione no, con la gialla chiaramente, con il fatto che a pranzo comunque potevamo lavorare, potevamo fare qualcosina, con l'arancione rossa cambia da poco, insomma. E voi ovviamente state puntando su asporto e domicilio? Sì, sì, noi abbiamo sempre lavorato così, anche in marzo e aprile. Comunque noi ci siamo e cerchiamo di dare un servizio, ovviamente se non c'è nessuno però la gente è terrorizzata, sta con la paura di uscire, di avvicinarsi. Vigili in strada a redarguire i cittadini sulle regole anticontagio ed eventualmente a fare qualche multa. Il capoluogo adriatico, ad ogni modo, si prepara al Natale, vengono allestite le luminarie delle feste, feste che però quest'anno saranno di certo tutt'altra cosa rispetto a quelle a cui siamo abituati. E anche se fuori casa, tutti sembrano adottare precauzioni rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. Pure mamma, non la posso abbracciare, io sto malissimo che non posso abbracciare mamma, ma non l'abbraccio e sto così qua, sembro un palombaro qua. Insomma, non sembra essere tanto la zona rossa a fare la differenza, ma in generale negli ultimi mesi è la presa di coscienza da parte dei cittadini rispetto alla gravità della situazione ad aver profondamente modificato il tessuto sociale ed economico delle città abruzzesi. I pescaresi non si sono completamente rintanati in casa, ma stanno attenti e la città, seppur sopita, non è di certo morta. Ora devo cercare qualcosa da mangiare perché devo ritornare indietro. Se trovo qualcosa aperto. Se trovo qualcosa aperto. Grazie.